Ciao. Ciao a tutti. Io sono Kim e sono una drogata. Però sono pulita da nove mesi. Quando avevo 16 anni facevo da babysitter a mio fratello e un giorno avevo preso tanto ma tanto percocet e ero completamente fatta. Noi siamo andati in macchina al parco che sta sul lago e giocavamo in mezzo alle foglie secche. Lui seppelliva me sotto le foglie e io seppellivo lui. E poi si misa a pretendere di fare il treno e allora le foglie erano i binari e io ero il vagone carbone. E lui mi gridava, vagone carbone, vagone carbone. E poi venne il momento di andare a casa. Io guidavo e perso il controllo dell'auto. L'auto cade giù dal ponte e finì in acqua. E io provai a liberarlo dal seggiolino ma non... non... non ce la facevo. E così lui affogò. E io lotto con Dio moltissimo perché non riesco a perdonarmi. E non voglio perdonarmi. E non voglio nemmeno credere in un Dio che mi perdonerebbe. Però adesso io sono viva, lucida, presente e non dipendo da niente. E se ferisco qualcuno io ferisco qualcuno. E posso chiedere scusa e possono perdonarmi. Oppure no. Se voi riuscite a essere in pace con Dio, allora complimenti. Però se come a me non ce la fate allora vi consiglio di venire qui. Grazie. Ciao, io sono Valentina Principi. Sono allieva, ormai mi sto diplomando al centro sperimentale di cinematografia. Ho portato un monologo tratto dal film Rachel Sta per sposarsi e un monologo che fa a Napoli.